Buongiorno, siamo qui a Hirogawara, sono le 6 e 20 e siamo pronti per salire Kitadake. Ok, l'atmosfera è già autunnale, naturalmente andiamo più su di 3.000 metri, quindi pieno autunnale. Ciao, ikimashio! Ecco qui, vedete? Kitadake. So, andiamo e attraversiamo il ponte. So, andiamo e attraversiamo il ponte. So, andiamo e attraversiamo il ponte. Oggi sono venuto con due amici, Hajime e Katim. Quindi proviamo insieme a salire Kitadake. Guardate, guardate che bei colori di autunno, giallo, verde, bellissimi. So, andiamo e attraversiamo il ponte. So, andiamo e attraversiamo il ponte. So, andiamo e attraversiamo il ponte. Siamo a 230. Questo bellissimo stagno. Ecco qua, noi andiamo su, 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 Kitadake, nostro amico. So, andiamo. 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 Kitadake. Vedete? E scena. Meravissime, meravigliosa. Ok, andiamo. ability. Samokunaru Kaze Kitadake si trova nel nord delle Alpi Meridionali del Giappone ed è la vetta principale delle tre montagne shirane cioè Kitadake, Ainodake e Notoridake pensate che è la seconda vetta più alta del Giappone dopo il Monte Fuji se si guarda da nord a sud mi ricordo quando ci sono andato la prima volta la forma è una bellissima piramide triangolare mamma mia non vedo l'ora di arrivarci ecco che è la rifugio di Kitadake il vero Spartan non si arrende non si guarda la prima volta non si guarda la prima volta non si guarda la prima volta Yeah, this way, yeah Yeah, this way, yeah Left, left Yeah, this way, yeah . eee 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao fuji-san. Ciao fuji-san. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.